Prosegue il nostro giro di interviste con i nuovi assessori della giunta guidata da Medeo Bottaro a Trani. Oggi conosciamo Denise Di Tullo, la nuova responsabile degli affari generali, affari istituzionali, contenzioso, gare, contratti, trasparenza, legalità e soprattutto semplificazione amministrativa. Francesco Rossi. Avvocato, entra in amministrazione con deleghe anche piuttosto pesanti, una delle quali è quella degli affari generali. Sì, sicuramente è un settore molto impegnativo, c'è l'obiettivo e la volontà di lavorare, di lavorare seriamente per la città, l'impegno che garantiremo tutti, anche i miei colleghi che subentrano con me oggi, sarà comunque totale, quindi garantiamo sicuramente uno spirito di abnegazione totale, questo sicuro. Cosa conosce già della macchina amministrativa tranese? Mi sono interfacciata, essendo avvocato, più volte, non solo con la macchina amministrativa tranese, anche con quella dei comuni limitrofi, quindi ho una certa dimestichezza che sicuramente dovrò perfezionare, in questo senso sto già lavorando. Un compito particolarmente complicato è quello della semplificazione amministrativa, la burocrazia che diventa eccessiva soprattutto nei confronti dei cittadini. Sicuramente l'obiettivo credo che sarà tramite i servizi telematici di garantire il più velocemente possibile la semplificazione della macchina amministrativa e in questo senso, visto anche l'esperienza per quanto riguarda il processo telematico in qualità di avvocato, sono sicura che con l'ausilio degli strumenti informatici si raggiungerà un buon grado di semplificazione a breve. Lei è un tecnico ma ha anche un ruolo politico? Sì, perché sono espressione appunto del movimento che mi ha formulato, quindi sì, tecnicamente spero di poter mettere la mia conoscenza, il mio bagaglio di esperienza a servizio dell'assessorato.